Peter, ti prego, non farlo. Possiamo comprarci un'altra macchina. Vorrà dire che darò lezioni di piano anche la domenica. Andiamo, Lois. Tutto quello che devo fare è una visione spirituale. Ne ho già avuto un'altra prima d'ora. Oh mio Dio. Brian, gli alfabetozzi hanno formato un messaggio. Dice O, O, O. Quelli sono le linee di avena.